Prende il via un percorso tematico che vuole intercettare e analizzare le nuove opportunità per i commercialisti in termini di offerta consulenziale per i propri clienti, in un momento delicato per l'economia del territorio in cui la riqualificazione dei lavoratori diventa sempre più priorità per restare competitiva. I fondi paritetici interprofessionali costituiscono un valido supporto alle politiche di sviluppo del mercato del lavoro e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli ha organizzato un forum sul tema. Noi come Ordine di Napoli vogliamo parlare per la prima volta di fondi paritetici interprofessionali perché in quest'ordine che è un ente di formazione non si è mai parlato di questa opportunità. In un momento di grave crisi economica come quella che stiamo vivendo questa può essere un nuovo strumento di lavoro per i commercialisti. I fondi paritetici interprofessionali che sono partiti a tutti gli effetti dal 2002 sono una risorsa importante per la formazione nelle aziende. Questa risorsa deve essere veicolata attraverso la parola dei commercialisti per diffondere questo verbo nelle imprese perché le imprese devono fare formazione per migliorare la loro capacità competitiva attraverso l'innovazione, attraverso uno sguardo anche ai confini non solo nazionali ma internazionali e la formazione adeguata delle risorse umane diventa fondamentale. Noi oggi ne parliamo per la prima volta affrontando il tema dei fondi stanziati e le risorse destinate da fondo artigianato e proseguiremo nel tempo a parlare con tutti gli altri fondi interprofessionali a livello nazionale e faremo dei focus che andranno a sistemare il panorama dei fondi con l'occhio del commercialista. Le opportunità sono tante, opportunità in termini consulenziali, opportunità in termini di assistenza alle imprese per poter anche grazie a questi strumenti e non solo intercettare i fabbisogni formativi e garantire la competitività delle imprese e quindi dare un servizio a 360 gradi ai propri clienti. L'attenzione alla formazione continua in Italia ad alcuni anni registra un costante trend di crescita pur essendo ancora lontani dalle performance dei sistemi di molti paesi dell'Unione Europea. I fondi interprofessionali costituiscono il tassello mancante del sistema di formazione continua in Italia. Sono strutture agili, capaci di dare la possibilità di accesso anche alle piccole imprese che troppo spesso non possono fruire i propri servizi specialistici in quanto troppo onerosi se realizzati autonomamente. Sicuramente per i dottori commercialisti e esperti contabili è un'opportunità per poter dare appunto come servizio alle proprie aziende queste opportunità appunto che riguardano la formazione dei lavoratori. Appunto è un servizio in più proprio anche per il fatto che oggi secondo me la formazione riveste sicuramente in questi momenti anche di difficoltà uno degli elementi principali anche per la riqualificazione e per aumentare anche le proprie competenze. Come primo aspetto direi che questo serve per migliorare le competenze e soprattutto per quello che riguarda i professionisti anche per poter offrire più opportunità alle imprese che loro seguono e alle quali come dire danno dei servizi. E per quello che riguarda il nostro fondo siamo abbastanza soddisfatti perché oggi possiamo dire di avere in poco più di cinque anni formato quasi 80.000 lavoratori e coinvolto quasi 13.000 imprese e dato quindi a loro la possibilità per le imprese di poter migliorare la loro competitività sui mercati e per i lavoratori poter migliorare le loro competenze e quindi essere più forti sul mercato del lavoro. Grazie a tutti.